Seconda sconfitta consecutiva, terza stagionale al Bonolis. Il Teramo non poteva iniziare in maniera peggiore il minio ciclo di gare fino al termine della stagione contro formazioni più abbordabili. A distanza di un anno la Virtus Francavilla passa con lo stesso risultato 1-0, tornando a vincere dopo un mese e mezzo di astinenza. Paci cambia solo Mungo rispetto alla formazione delle ultime uscite, chiamando in panchina Pinza Uti per lanciare l'ex Cosenza da titolare accanto a Bombaggi. Colombo all'esordio sulla panchina della Virtus Francavilla conferma invece il 3-5-2 con Vasquez e Ciccone terminali offensivi. I pugliesi fanno tappa al Bonolis a caccia di punti salvezza, ma nel primo tempo questa necessità resta di fatto negli spogliatoi. Il Teramo prova ad approfittarne rendendosi di fatto più pericoloso. Al tredicesimo Vitturini mette in mezzo per Mungo che fa da sponda per Bombaggi, ma Costa capisce ed anticipa il bianco-rosso. Un minuto dopo Lewandowski si fa trovare pronto sul tentativo dalla distanza di Caporale. Il diavolo torna avanti con Costa Ferreira, ma né Bombaggi né Mungo hanno un impatto felice con il pallone in piena area, tale da creare davvero pericoli. Il primo vero tentativo nello specchio della porta ospite porta la firma di Santoro, che al diciannovesimo carica di nuovo il destro sulla scia della gara contro la Ternana, ma l'estremo bianco-azzurro riesce ad opporsi. Prima della mezz'ora, l'unica vera occasione nel primo tempo, Bombaggi vede il movimento senza palla di Mungo, che si infila tra i centrali della Virtus e fa partire un destro che Costa allontana come può. Al trentaseisimo si va da Costa a Costa con il portiere di Colombo a neutralizzare il tentativo del centrocampista di casa. La ripresa si apre male per il Teramo, è infatti al terzo che Ciccone mette a segno quello che sarà il gol vittoria, con tentativo a palombella non è chiaro se con deviazione o no ad infilare Lewandowski. La reazione del Teramo in verità non ci sarà mai. Al sedicesimo tentardini chiamo in causa Costa Ferreira, che spinge il suo quasi omonimo ad allontanare la sfera dall'aria per evitare i guai. Kumara di Verona deve alzare bandiera bianca dopo il quarto d'ora per un problema muscolare. A suo posto va in campo il quarto uomo, Giacaglia di Iesi. Con lui va sul terreno di gioco anche Pinza Uti per Costa Ferreira, con il diavolo che si veste di 3-5-2 come gli avversari. Di occasioni però i biancorossi ne avranno poche. Al trentacinquesimo è Pinza Uti a provarci senza esito, ma cinque minuti più tardi la Virtus sfiora addirittura il 2-0, con il caporale che si fa tutto il campo palla al piede impegnando Lewandowski. Le ultime chance passano ancora dalle parti di Pinza Uti nel maxirecupero da 11 minuti. La prima è quella che l'attaccante raccoglie di testa, non riuscendo però a dare forza a sufficienza. Infine ci pensa Rigoni dalla sinistra a servirlo, ma l'ex Novara non inquadra lo specchio col mancino da posizione defilata. Per il Teramo è un capo pericoloso in ottica play-off, considerati i risultati concomitanti. I biancorossi restano ottavi, ma devono preparare la reazione domenica prossima in casa della Vibonese.